ti ricordo se vuoi di iscriverti al gold member che ringrazio anche oggi ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video sono in sala operatoria mi si è rotta la lavatrice questa è la scheda tutta nera fumo sicuramente nero comunque qualcosa è successo perché non funziona più avvio l'asilo smontaggio e vediamo se posso riuscire a concludere qualcosa anche se una lavatrice un po vecchiotta in teoria potrei perché come digitale a poco però nello stesso tempo vediamo dai a 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 la teoria si potrebbe anche provare però credo che sia molto molto più difficile trovare le soluzioni e riuscire effettivamente a ripararli niente ragazzi per questo video è tutto grazie per la visione al prossimo mi raccomando seguimi iscriviti al canale un like e